Stiamo girando le ultime scene all'interno del teatro Dragoni di Meldola, grazie al comune di Meldola abbiamo la possibilità di essere qui in questa bellissima location e il film giunge con quest'ultimo giorno alla sua conclusione ufficiale. Il suo futuro sarà quello di giungere nei principali concorsi e poi speriamo una distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche e magari il nostro sogno più grande è che questo film possa giungere non solo sul grande ma anche sul piccolo schermo. Questo è quello che tutta la produzione si augura. È stata una bellissima esperienza, davvero. È entusiasmante, con l'aiuto di un sacco di persone tutte insieme nel fare qualcosa di bello, è un bel messaggio di fratellanza, di cooperazione in un mondo che in questo momento ne ha secondo noi sinceramente bisogno.